Ciao Ale, benvenuto su questa nuova puntata del nostro podcast. Ciao Luigi e benvenuto a tutti. Sempre più incentrato sulla libertà di parola e sulla democrazia. Oggi voglio portare alla ribalta e all'attenzione degli spettatori, ma anche tua, soprattutto per sapere la tua opinione, effetto sorpresa. Non so se lo sai, ma in questi giorni Facebook ha fatto due mosse. La prima è stata quella di bloccare la condivisione di tutte quelle notizie o di tutte quelle pagine che portano informazioni che non siano adeguate, come si dice, nello stesso, in sintonia con il politicamente corretto o con quello che deve essere. Cioè praticamente in questo caso parliamo più specificatamente del coronavirus. Io voglio dire che praticamente fa la lotta al complottismo, ok? E lo fa bloccando le condivisioni. Lei decide, cioè l'algoritmo di Facebook decide cosa è giusto e cosa è sbagliato. In più, molti hanno segnalato che arriva una mail da Facebook nella quale ti dice di indicare se hai qualche contatto, qualcuno che si è radicalizzato, ma non radicalizzato nel senso di terrorista o qualsiasi cosa, ma proprio che crede che il coronavirus non esista o che distribuisce, che condivide notizie secondo Facebook, sbagliate. Allora, io parto dal primo presupposto. Io non sto dicendo che sia giusto o che sia sbagliato, ma io parto dalla mia idea di liberale. Nessuno può bloccare la condivisione di un pensiero, che sia giusto o sbagliato. Questo è il primo punto. Il secondo punto sul quale vorrei farvi riflettere, far riflettere anche a te Alex, è il fatto che Facebook ha creato un collo di bottiglia sulla comunicazione. Apro un'altra piccola parentesi. Negli anni 90 c'era Canale 5, Berlusconi, tutti quei casini nel quale si diceva che lui comprava tutti i mezzi di comunicazione per indirizzare il pensiero, per monopolizzarlo, per comunque prendere i voti. Facebook in questo momento invece, essendo una piazza virtuale, l'unica che esiste, sulla quale ci sono quasi, penso, un miliardo di persone, si prende la libertà di poter decidere cosa tu puoi o non devi pensare. Questo è il primo punto. Il secondo punto è anche ricordarci che Will Webb nasce comunque all'interno di quel libero pensiero che lottava proprio contro la coercizione e il controllo del pensiero, cioè nasce delle notizie, diciamo, nasce libero. Libero, diciamo, dal cyberpunk, dal pensiero degli informatici degli inizi dell'era, dell'Arpanet, del famoso Arpanet, nel quale doveva essere libero, aperto e dare quindi il massimo della democrazia possibile. Invece noi oggi, per concludere e passarti la parola, ci troviamo di fronte a una macchina che ha un ruolo di monopolio, e te lo dico da liberale, di monopolio, in quanto è l'unico social network al mondo, non ce ne sono altri, si permette di decidere cosa dobbiamo pensare, cosa sia giusto. Io questo lo trovo inaccettabile e penso che sia un attacco alla democrazia, perché anche un coglione deve avere il diritto di dire una coglionata e un deficiente deve avere il diritto di credere a quella stronzata. Tu cosa ne pensi? Sinceramente non mi sono fatto un'idea precisa sul fatto in sé, perché onestamente non lo sapevo, in realtà non lo sapevo. L'ho sentito per la prima volta qui da te. E quello che mi viene da dire più in generale è il fatto che evidentemente qualsiasi pensiero in ultima analisi è un pensiero assolutista. Cioè come ho sempre pensato, le divisioni tra relativisti e assolutisti sono delle divisioni sostanzialmente di tipo intellettualistico, però alla fine quando si cala questo tipo di visioni nella società e nella realtà succede che alla fine anche il relativista diventa un assolutista, solo diventa un assolutista del relativismo al massimo. E questo mi sembra che sia il caso, no? L'errore qui è stato di lasciare a pochi, anzi a pochissimi, la possibilità di monopolizzare il web. Secondo me l'errore grave è stata questa cosa qui. Ovviamente poi da questo ne consegue che questi pochissimi hanno un'idea del mondo molto forte, hanno un'idea del mondo assolutista, molto semplicemente, e la stanno applicando. Evidentemente sanno anche però che c'è un certo numero di persone che in realtà è d'accordo con questo tipo di mosse. E' anche una scelta politica? Sì, ma le scelte politiche non sono mai, secondo me, tirate alla cieca. Nel senso che se fanno questo tipo di scelte, voglio dire, non è che una scelta politica è suicida. Se fanno queste scelte vuol dire anche che comunque hanno le spalle coperte per farlo. Quindi vuol dire che c'è anche una certa mazzoranza relativa che comunque è d'accordo, perché altrimenti ci sarebbe chiaramente la fuga da Facebook. Diciamo la verità, chi comanda sono i social network, perché il pensiero passa da lì. Ti faccio un esempio. Prova tu a non vedere, ma noi no, ma chi frequenta l'internet, chi sta tutti i giorni sui social, provi a spegnere per una settimana i social e a guardare il mondo con gli occhi reali. Capirà che quello che viene scritto sui social, quello che sembra l'Italia nei social, non è quello che c'è realmente per strada o in giro. Quindi questo ti dimostra che i social possono influenzare anche il voto, possono influenzare la visione, possono influenzare l'umore, possono darti un'idea distorta della realtà. Quindi io principalmente mi auspico che crescano dei nuovi social dove ci sia veramente la libertà di parola e di pensiero, dove ognuno può dire quello che vuole. Perché secondo me è importante sviluppare un senso critico, non una dottrina autoritaria, perché ricordiamoci che il controllo è massimo all'interno dei social, perché loro hanno i dati, i metadati, hanno una serie di informazioni. Noi non siamo anonimi all'interno, quindi loro hanno un potere che è molto più grande rispetto a quello che noi percepiamo e possono condizionarci. E pertanto penso che non sia giusto che un social abbia il diritto, si prenda il diritto di decidere quello che è giusto per noi. Apro una piccola parentesi, è anche vero che Facebook è una società privata e può decidere all'interno del suo network cosa sia giusto, cosa può essere condiviso, cosa non può essere condiviso, come può decidere se bannare o non bannare qualcuno. Qui ci sarebbe un'altra riflessione, perché secondo me si potrebbe arrivare, visto al mondo virtuale, a definire quegli spazi pubblici, non privati. Ma anche allora se li definiamo spazi privati, è ora che si finanzi o che inizino ad esserci, e lo dico agli imprenditori italiani, gli imprenditori stranieri, a chiunque, ad aprire dei social capaci di creare delle piattaforme, delle piazze veramente liberali e veramente di incontro, non di offesa, ma di sviluppo di idee. Questo è il mio pensiero. Per concludere, almeno dal mio punto di vista, trovo veramente e veramente disdicevole il comportamento di Facebook. Questa è la mia idea e non so cosa pensano gli spettatori, mi piacerebbe che commentassero sotto e mi dicessero la loro. Su questo punto però io non sono d'accordo con la soluzione che tu proponi, nel senso che invece secondo me la soluzione è la buona vecchia idea novecentesca, cioè non creare degli spazi alternativi. Secondo me bisognerebbe semplicemente riappropriarsi degli spazi che ci sono già. Cioè in buona sostanza Facebook deve smettere di essere una società privata. No, perché sarebbe monopolizzato e manipolato dal pubblico, perché invece nel momento in cui, rispondendo sempre alle logiche di mercato, nel momento in cui tu crei un'alternativa e gli utenti si trasferiscono, Facebook non potrà più fare quello che vuole, legge di mercato. Ho capito che Facebook non potrebbe più fare quello che vuole, però rimane sempre il fatto che c'è un'idea forte secondo me qua dietro. Secondo me invece sarebbe veramente un atto rivoluzionario e un grande atto di esempio quello di prendergli questa piattaforma. Beh, allora direi che da qui partiamo per dire ai nostri spettatori di dirci la loro. Lasciamo aperto il finale, magari lo riprenderemo dopo aver letto i commenti. Che dici? Va bene, perfetto. Allora alla prossima, questo è un piccolo video nel quale affrontiamo questa tematica insieme ad Alex, che era all'oscuro, le foto da sorpresa. E niente, sotto mettete i vostri commenti che poi svilupperemo in seguito un'altra puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti.